È tutto pronto per la sfida di domani fra Lega e Sardinie. Salvini al Tuscany Hall riunirà 1.200 dei maggiorenti della Lega in Toscana, anche se c'erano 3.000 richieste, fa sapere, e forse però non darà il piatto forte, cioè il nome del candidato per le regionali. La presenza di Salvini a Firenze ha mosso, come accade ormai in tutta Italia, il popolo delle Sardine, che invece si è dato appuntamento domani alle 18.30 in piazza della Repubblica a Firenze. Sui social al momento ci sono 13.000 parteciperò all'iniziativa delle Sardine che lanciano dunque la nuova sfida a Salvini. Sentiamo i protagonisti, da una parte le Sardine, dall'altra gli esponenti della Lega. Faremo questo flash mob essenzialmente sulla scia di quello che è stato il flash mob di Bologna, quindi dei ragazzi di Bologna, per manifestare le nostre idee che sono pro-Costituzione più che contro qualcuno. Noi siamo pro-Costituzione e abbiamo cercato di raccogliere quelle che sono le persone che credono che questi valori debbano essere riportati alla politica attuale. Noi stiamo chiedendo semplicemente una qualità alla politica, di ritornare ad una politica di qualità, una politica seria. Anche in passato abbiamo già visto analoghe situazioni, un tempo si chiamavano il movimento dei girotondi, siamo abituati alle contestazioni, a noi le Sardine piacciono, quelle da mangiare e ci piacciono tantissimo. Gli lasciamo fare il loro lavoro, noi faremo il nostro evento, ci dispiace non poter essere in piazza, ma a fine novembre con 1.300 persone, tra l'altro avevamo avuto adesione per oltre 3.000 persone, quindi al di là di ogni più rosa e aspettativa, noi faremo il nostro evento con Matteo Salvini e siamo felicissimi di poter sviluppare con lui tantissime attività in Toscana, parte dal 30, la nostra campagna elettorale per prendere la regione toscana.